Siamo alla quarta rivoluzione industriale. Internet of Things è solo una delle cose che cambiano il nostro modo di vivere e di fare business. La crescente informatizzazione e automazione necessita di energia elettrica di qualità, cioè fattore di traino per la crescita del settore UPS. Technover da 30 anni contribuisce con idee concrete allo sviluppo delle tecnologie UPS, a un punto di vista privilegiato e partecipa attivamente all'innovazione, dimostrando la possibilità di integrarla in un business vincente. Abbiamo maturato la capacità di trasferire conoscenza, innovazione e tecnologia ad ogni nostro partner, in ogni paese in cui operiamo. Technover è un'organizzazione basata su valori importanti, impegnata a trasmettere un impatto positivo dentro e fuori l'azienda. Da sempre facciamo tutto quanto è necessario per far crescere le performance dei nostri partner, dei nostri clienti e di ogni singolo componente del nostro staff. Questa è la forza di Technover. Questa è la forza di Technover. Questa è la forza di Technover.